Ciao, creatura! Io sono Eka Desplendente e benvenuta o bentornata nel regno di... cosa è? A-S-M-A Non so più la programmazione dei miei video, quindi non so se hai notato questo make-up un po' parecchio, 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 parecchio particolare. Non sono tinte che di solito uso, però dato che mi sono arrivati questi prodotti e volevo provarli insieme a te, creatura, te li mostro qua, ma in teoria dovrebbe uscire un video, sempre se non è venuto una schifezza quel video, allora forse non lo vedrai mai, però in teoria dovrebbe uscire qualcosa, forse sui Zio, sugli shorts, forse, non lo so. In caso contrario ti mostro anche qui così siamo a posto, ma è tanto per me e te, non è per chissà chi, insomma. Ho questa che viene definito cream color, diciamo principalmente per gli occhi, una specie di ombretto. In realtà ho visto che partono delle sfide su YouTube con questi prodotti qua, questo cream color di tanti diversi colori. Io ho lo 07 Pink Flamingo per fare make-up completi perché può essere usato come illuminante. o chi lo usa come blush, chi lo usa come rossetto, io l'ho usato come punto luce qui sugli occhi e anche come illuminante, non so se si vede onestamente, anche perché è l'illuminante preferito, guarda guarda. Ho anche paura di aprirlo, non so se si vede, è in frantumi, non metto a fuoco, non so se si è visto comunque in frantumi, me lo so, sono trovata a casa, me lo sono trovata così, quindi... Ah, l'aiastati, lo sto cercando per ricomprarmelo perché era il mio preferito, mi dispiace tantissimo che adesso, vabbè, lo posso usare però... mi piange il cuore, quando lo apro lo vedo in frantumi che bisogna stare attento a come si maneccia perché sennò esce tutto di spalla. Cioè, se io quello lo giro, lo posso buttare via perché scende tutto, vabbè. E quindi, allora, la tonalità su di me, però secondo me con la bronzatura sì, quindi attendiamo che venga il sole e piove sempre. E poi alle labbra avevo due prodotti da poter utilizzare, l'altro lo proviamo un'altra volta. Mi piace che ricevere prodotti che non avrei mai comprato, quindi è una sfida provarli su se stessi e farli andare bene, insomma. Avevo questo qui, che il packaging è super super estetic, però il colore è tipo arancione. Aiuto! Non so come potrebbe stare su di me, non l'ho ancora provato, non ho ancora avuto il coraggio di provarlo, però un giorno lo proveremo, magari con altri ombretti. E questa volta ho provato questo che mi ispirava molto moltissimo, è super futuristico, super... Mi ricorda un po' Futura, ma non so per quale motivo, perché è metallico forse. Ed è questo qui, anche il packaging, molto bello, un po' mi piace perché ha la punta con Ulag, Ulag, non so come si pronuncia. Scritto tutto attorno e questo era il 10, Sara Gold. Anche questo mi grida estate, mare, cose del genere. La punta dura, che io non ho attualmente, ma forse avrò, se viene bel tempo, chi lo sa. E quindi, cosa ne pensi? Diciamo che non sono i miei colori, però se uno è bello sto bene con tutto, giusto? Quindi mi autodico così, molto bene. Allora, bando alle ciance, ti mostro l'haul che ho fatto al mercato martedì scorso e premetto già che non ho comprato né magliette, né vestiti, né pantaloni, né giacche. E niente, 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 niente di tutto questo. Perché c'erano praticamente solo, è stata la giornata delle scarpe, delle ciabazze, le pantofole, dei sandali, ecco. E' documentato tutto, quindi poi guardiamo i video insieme, li commentiamo, io me li guardo dal telefono e li commento finché dopo tu li vedrai apparire qua, da qualche bar, che solitamente li metto qua. E li guardiamo insieme, li commentiamo insieme. Ah, mi dovrò mettere... ma sono proprio senza occhiali. E mi guardano così. E' sempre più cieca, complimenti, ecco a te. Comunque, ho comprato solo tre cose, però mi dirai insomma tu se ho fatto un buon affare. E secondo me sì, perché sennò non le compravo. Le ho qua. Come sempre dentro il mio zanetto, perché io me lo porto dietro, perché sembro una che mi sta andando a fare il trekking su una montagna, ma in realtà sto andando al mercato. Perché ci devo schiaffare dentro tutti gli acquisti e col mal di schiena è perfetto, perché mi metto lì, invece con tutte le borse, non vado bene. Comunque ho degli aggiornamenti anche sulla mia salute, ma faremo magari un video a parte. Allora, se ti interessa, se no, mi detengo per me, ecco. Io direi di partire subito con un like, iscriviti al canale, poi dopo mi metterai un commentino sui prodotti. E basta, partiamo, 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 partiamo. Ti racconto quello che ho preso in base, proprio cronologicamente, cronologicamente. Ti ho usato oggi, non ho comprato camicie stranamente, che di solito c'era la tradizione, ma non ho trovato niente di bello. E appunto neanche cose, comunque i difetti, 50 centesimi, niente. Allora, questo budget, diciamo, è stato un po' più alto, però rispettivamente a ciò che ho acquistato va bene, insomma, a un buon prezzo. Ok, allora, andiamo a vedere i video. Aspetta che mi sposto, di qua. Ecco, vediamo se mi metto così a guardare. E sembra che sto guardando lì, no, molto bene. Allora, qua c'erano i sandali a 6 euro, ciabatte, sandali, scarpe. Però non ho comprato nulla qua. Perché appunto, però ho fatto il video perché avevano delle cose molto particolari. E guarda queste col pelo, cioè, toppi, toppissima. Queste qua mi attiravano l'attenzione perché erano tutte morbidose. Guarda, che schiaccio così, bellissime. Non le avrei mai comprate. E questo è il primo video per... Per quanto riguarda, c'erano un sacco, un sacco di pancherelle che avevano queste cose. Era la giornata. Poi qua, 2 euro non si cambia. Io mi sono presa delle ciabattine che adesso ti mostro. C'erano un sacco di ciabatte. E quelle anche infradito, come puoi vedere dal video. Qua sto facendo un po' come se fossimo insieme a guardare dentro la bancherella. Io dico in dialetto veneto, a rumare. A rumare, a rumare. Guarda che infradito. Cioè, bellissime, ma non piacciono. Ma non so, non riesco a camminarci. Più che altro. Però avevano tanti, tanti modelli. Super fashion, 2 euro. Inizialmente io volevo quelle grigie che si vedono lì. Con lo strap mi trovo bene perché ho i piedi molto magri. E quindi le altre le perdo. Altre ciabatte, sì, altri tipi le perdo. Invece quelle posso, con lo strap, chiudermele bene, no? Quante pippe accade veramente. E qua siamo nella stessa bancherella. C'erano queste qua che mi ho detto. Tienile in mano che devo fare il pigno. Che bello. La solidarietà delle donne al mercato. E quindi, niente. Ci sono anche queste che vedevo che andavano tantissimo. Che le donne si compravano. C'erano alcune tipologie molto più gettonate di altre. Infatti erano finiti i numeri. L'unico 41 che ho trovato con lo strap è stato quello lì. Adesso tutto il mostro. La marca. La marca non la conosco. Claudine. Questa marca qua che non conosco. Numero 41. Sono un bel rosa antico, secondo me. E anche morbide. Cioè con la carta dentro. Due euro con la carta e anche volendo. Giuste e pronte da negozio. Con il proprio appendino. Vabbè. Mi sembrano molto morbide. Speriamo che, insomma, per due euro o regga non può rimettere solo per andare al mare. O comunque per l'estate, ecco. Sempre se arriva. Ricordiamo questa cosa. Un piccolo dettaglio. Qua 41 perché io ho i piedi da hobbit. Vabbè, sono una, un metro e settantatré. Quindi se avessi i piedi piccoli probabilmente cadrei in avanti o indietro. Ecco, però, insomma, 41 per essere una donna. Un bel piede grande, devo dire. Da gigantesca proprio. Sanno, non puzzano neanche di plastica. Ah, perché c'è scritto. Però sono comunque cinesi perché è made in PRG. Avvertenze, attenzione, materiale plastiche, non ingerire. Ma che che si mangia le ciabatte? Poi, di qua, procediamo con gli altri video. C'era un'altra bancherella qua con sempre 2 euro. E c'erano sia scarpe che ciabatte, infradito. Però ho notato che questi qua, per esempio, sono i sudacchini. E le scarpe erano tutte piccole, i numeri. Io ho il 41, quindi figurati se trovavo qualcosa. C'erano delle belle scarpe, appunto. Però erano tutti numeri piccini. C'erano quelli di violetta. Facevano i treni. E poi c'era mini, la guru, guru. Questa andava un sacco di moda quando ero piccola. Adolescente, forse. Sandali. Però mi sarebbe piaciuto per 2 euro prendere delle scarpe. Pretendi troppo, eh, Cate. Per i bambini, sì. Oppure anche le persone con un numero piccolo avrebbero potuto comprarsi le scarpe a 2 euro. Io ho il 41, c'ho la slip, una slip così e quindi niente. E poi, però mi sono rifatta in questa bancherella dove c'erano rimanenze di negozi a 10 euro. A 10 euro e ho preso queste che, come puoi notare nel video, sono quasi identiche a quelle che ho già. Però, eh, queste hanno la sola molto più alta perché mi hanno detto che per la schiena eh, probabilmente sto usando delle scarpe troppo basse. sono originali superga numero 42 che ho il 41 ma mi vanno bene, le ho provate. E dopo ti spiego, intanto guardiamo, qua c'erano tutte scarpe originali superga di tanti colori e forme diverse e la maggior parte erano 42 però le ho provate e mi stanno giuste probabilmente con la Z, con quel riazzo lì mangia un numero quindi è sempre furbo provarsi le scarpe perché ogni scarpa a veste, questi erano stranissimi ogni scarpa a veste in modo diverso qua vedi, stavo mostrando insomma erano le uniche tutte nere di che mi aspettavano tra l'altro finché le provavo una signora stava lì le stai provando? no, non le sto provando e allora era lì che mi fissava, secondo me le voleva lei ma erano le uniche e adesso te le faccio vedere 10 euro sempre se si è visto comunque come puoi vedere superga originali numero 42 andracite che a me sembra nero più che andracite vabbè fotocopertina penso che metterò quella sì, sono identiche quasi a quelle che ho io io ce le ho più verso le converse però ho sempre compro sempre le stesse scarpe quindi è un po' attestico questa cosa però chi se ne frega e insomma queste diciamo che sono simili però diverse e soprattutto hanno un po' di rialzo e non sento ogni cosa che pesto come succede adesso che però con quelle basse vado bene a guidare perché sento i pedali e con queste adesso dovrò fare un po' di pratica perché sentendo i pedali mi sento poco sicura no? so che c'è gente che guida anche con le seppe con le scarpe col tacco quindi sono io che mi faccio le paranoie come al solito e le converse diciamo sono sotto marca non sono star che sto utilizzando le ho da circa un anno e si sono già tutte rotte mi stanno perdendo pezzi praticamente sto camminando nella plastica ottimo non va bene non va bene allora queste superga dovrebbero anche essere un po' più resistenti diciamo ecco perché sono anche di marca chissà quanto costavano originariamente non sono andata a vedere se qualcuno o qualche creatura vuole farmi il favore di andare a vedere grazie adesso finalmente te le ho mostrate posso metterle visto che piove si è lagato il mio paese con quelle là mi sono bagnato i piedi con queste che sono belle alte plasticose qua non dovrebbe più succedere adesso verrà fuori il sole meglio belle però non so se nero su nero si vede qualcosa belle però le sono provate mi stanno anche bene non faccio il try on all il try più che altro l'all si il try on però insomma puoi immaginare come mi stiano dai secondo me sono belle anche con la gonna poi ultima cosa a 2 euro 99 c'erano gli ombrellini stavano finendo io ho comprato questo che era l'ultimo allora con lo scatto quello lì con la che si aprono schiacciando il pulsante mai avuti spero che allora la mia idea era non comprarli perché mi dà l'impressione che siano quelli che si rompono subita però a quel prezzo lì con l'apertura così non li avevo mai trovati in più non è neanche piccolissimo diciamo che è una messa via tra un ombrello piccolo e uno grande e poi ho detto beh per quel prezzo lì visto che costano tanto 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 di più me lo prendo e così lo provo una volta per tutte che non ho mai comprato con l'apertura così a click adesso la vediamo insieme e quella della bancherella mi ha dato anche un immagino che non so cosa sia adesso lo vediamo insieme ma penso che lo apriremo in un video a parte mi fa troppo ride magari facciamo uno shorts allora questo è un ombrellino blz ma your right choice born to be unique che è un brand cinese vabbè comunque è fatto così a tutti questi colori non l'ho ancora aperto come puoi vedere dove ho andato l'etichetta era qui e al il pulsante qua e spero funzioni perché l'ho ancora provato vabbè pazienza dovrebbe aprirsi anche se si rompe il tasto però non lo so fatemelo sapere nei commenti grazie c'era anche senza tasto nero avrei voluto prendere quello quello era marcato 16 euro no questo del genere e costava 2 euro 99 però ho detto ma sì per una volta voglio provare quello col pulsantino fare la riccona come gadget tipo ho fatto ti do un omagino l'omagino è questo dei me contro te me contro te me contro te 3D praticamente hanno plagiato e l'idea dei quelli che c'era una volta di Word di là perché ne ho là facevano tutti facevamo la collezione dei guini de pu travestiti da non so animali travestiti da tante cose i guini de pu travestiti sono anche male tra l'altro si potrebbe fraintendere vabbè vedo che c'è chi sarebbero loro due dentro travestiti non so collezionali tutti vabbè chissà quanto originale sta roba è made in China però mi sembrano proprio loro cioè mi sembrano proprio loro nella foto e però non è non è originale sta roba perché di solito sono tipo della schifidul non so perché qua perché mi hanno regalato una roba da rock warning c'è scritto made in China non lo so non c'è un logo di produzione tipo giochi preziosi o schifidul cose del genere portaci sempre con te all'interno all'interno rm sd a più lui no mi sa che non è originale perché è lui come è scritto l u i o s o o s o h con guscio guscio intercambiabile ma tutto questo cioè lui è tutto attaccato non credo sia molto originale comunque apriremo in un reel no non ho shorts scusami questo tanti like perché è una la trashata nella trashata perché è una roba tarocca di una roba super trash cioè parliamone e regalata con l'ombrello perché vabbè comunque cioè è la prima volta che vado in una pancherella compro al mercato e mi danno l'omaggio di una roba trashissima cioè già che mi danno un omaggio e tanto comunque come sempre aspetto il tuo commento con gioia e gaudio per vedere cosa mi scrivi se cosa ne pensi giusto ciò se sei arrivata fino a qua ahimè contro te commenta con l'emoji di un cane perché loro hanno il cagnolino non perché loro sono due cani ovviamente comunque sembra che mi sono fatta qua il blush ah invece è proprio il segno degli occhiali wow va bene o è il sole ma quale sole è Cate vabbè spero che questo video come sempre ti abbia fatto rilassare io ti auguro buonanotte buon relax grazie per tenermi sempre compagnia perché ci teniamo compagnia vicenda per essere stata qui con me questa sera ciao ciao creatura grazie per la visione